Ciao! Che roba! Ciao, ciao, ciao! Delphi! Oh, viene licenziata, viene licenziata! Bene, abbiamo finito questa giornata! Lui è... Vextin, ufficiale, ufficiale, ufficiale... Ciao a tutti! Ecco Andrea, grande Andrea! Che roba, il bauge! Il nostro regista, di qualcosa Andrea? Grazie, grazie a tutti! Grazie! Ci bacio! Che roba! È stata una giornata fantastica! Ringraziamo ai Federico Claps! Salvatore! Dobbiamo andare via dal locale! E dobbiamo andare via dal locale, sennò... È un saluto da Bari! Che roba! Un saluto, dicami qualcosa, cosa vuoi dire? Grazie per essere stati con noi! Non mi hai conto! Che roba! Non ci metto tanto male! Su, ciao Camilleri! Va bene, non è troppo lungo, se no non ce la fai giusto! Oh Roccia! Alla prossima! Ci aggiorniamo! Ciao! Cipollini! Cipollini! Bene! Qua è rimasto a rompirla! Guarda, vedi? Tutti i fans! Federico Claps! Questo è Federico di Pans! Tra un po' mi venerà Federico, che è un'ora che lo chiamo! Posso farmi? Non è vola con te, Federico! Oddio! Sto morendo! Greta! Ciao! Questa è Jessica! Ciao Jessica! Com'è andata? Divertita? Un saluto a Bergamo! Mi raccomando! È lui il nostro attore! Guardate! Lui! Che roba! Ciao ragazzi! Lui! Wangan! Wangan! No! Carissimo! Il mio nuovo amico! Grande! Un saluto! Un saluto di quello che vuoi! Grande! Dove arrivi? Io vengo dalla... Cina! Cina! No, dalla Corea vengo! Ci puoi fare un saluto? Nella tua lingua? Eh... Si! Non è un problema! O come vuoi tu! Agnion! 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 Carissimo! In francese vuol dire cipollo! Cipollini! Cipollini! Ciao a tutti! Grande! Un animatore! La Suista! Grande! La Suista! Sta marcando la Suista! Qua tutte le donzelle! Ciao! Oh! Oh! Eri più alto una volta! Oh! Ciao ragazzi! Un saluto a tutti! La make up! Make up! Grande! Ciao! Ciao! Che roba!